benvenuti a questo nuovo video quest'oggi il mio cameraman togli il cavalletto il mio cameraman si mette ok mi filmerà quindi appunto farò un po' di trick farò la discesa farò questo quello è bella allora mi sa che mi toccherà tagliarlo non si può mettere in pausa ma... senti che fermiamo sotto si cioè prima di andare giù alla chiesa fai qualche trick ma no cosi ti esce secondo me ma li facciamo dalla chiesa io magari io eh bravo bravo sblocca le forze sull'aula ah 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 dai che ti schieniamo fra madonna dai fra che ti schieniamo non so dove sono andata non so dove sono andata beeello ditei crolla ditei crolla ditei crolla è bellissimo ditei pasta frolla ditei pasta frolla c'è un po' c'è un po' e si poi mi ammazza oh mi segue oh eh bro si ricorda no bro c'era sulla ruota no no vuoi fare cose con te vai non mi superare se non puoi capirmi ahahah non dare contramanze ahahah merda ma un gatto nero ahahah un gatto nero non è di barbecue beeello ma dove siamo andati che ritardate ma dove stiamo andando ragazzi dove siamo andati ragazzi dove siamo andati ragazzi ragazzi non prendete esempio da questui non prendete esempio da costui niente stavo dicendo che sei un bravo bimbo ma dai tanto c'è i bambini esatto ragazzi gli auguri a me mi ha copiato adesso lo supero non prendete quel passaggio non prendete ma davvero il piastro ahahahahah non prendete il piastro di mio vabbè li portiamo ma che c'è il piastro ahahah sul basso dall'interno sul basso no ma lui non sta bene ragazzi e vabbè ragazzi non mi tira tanto a noi le gomme ce le regalano mi si è schiantato un morto nell'occhio belle le gomme che se ne vanno orgo 2 mi sono schiantato mi si è schiantato un morto nell'occhio ma l'hai visto un moscone? no mi si è schiantato un morto nell'occhio sarà stato un moscone? sarà stato un moscone? ma l'hai visto quel bambino socio passante? si infatti ma mi stava mettendo il cabello infatti